Buongiorno e benvenuti a ben cinque personaggi oggi siciliani, dire personaggi siciliani è un po un ecco con la sicilia non si fa altro che fare ecchi letterari purtroppo o magari per fortuna insomma oggi sono con noi in questo studio saluto a cominciare da chi è più lontano roberto la rosa dei movimento siciliani liberi buongiorno la rosa poi abbiamo nello musumeci buongiorno nello musumeci che rappresenta il centrodestra roberto la rosa rappresenta il movimento siciliani liberi poi abbiamo giancarlo cancelleri dell m5s buongiorno cancelleri benvenuto a lei buongiorno a chi ci ascolta grazie e qui abbiamo in studio claudio fava che rappresenta 100 passi per la sicilia anche questo diciamo un eco evocativo i 100 passi per l'appunto e fabrizio micari che rappresenta anche qui c'è in questa sala ci sono molte contraddizioni vedremo e molti incroci tra questi cinque candidati volevo ricordare semplicemente ai nostri ascoltatori l'importanza di questo incontro di oggi perché ovviamente mai come questa volta la sicilia sta facendo partire un treno che è un treno nazionale il treno delle elezioni parte di fatto domenica prossima ma non solo è la prima puntata come avete visto dalle agitazioni in sicilia delle nuove della corsa elettorale e anche mai come prima questa elezione carica di significati nazionale mai come questa volta si può dire c'è ci sono due passaggi no importanti in questa in questa corsa per essere eletti governatori uno ha a che fare con la le modifiche avvenuti in sicilia in questi ultimi anni io vi chiederò un po di cose in merito perché a me non piace l'idea di stare sempre lì a parlare delle stesse cose della sicilia eccetera vedere se sono stati fatti dei passi avanti nell'identità dell'isola e l'altra cosa importante invece è il rapporto quello che si gioca in sicilia si giocherà anche a livello nazionale io vorrei dare due numeri prima di chiedervi una cosa i numeri della sicilia di cui su cui stavamo ragionando preparando questa puntata sono veramente allucinanti mi scusate se lo dico la sicilia è stata indicata semplicemente un mese fa dalla unione europea come 237 ma su 263 un indice 263 nell'indice per competitività regionale in in europa cioè bassissima insomma no vi dico un altro dato che mi ha colpito i siciliani scritti all'aere che l'associazione di italiana residenti all'estero sono 744 mila un movimento che si è praticamente aumentato esponenzialmente nella ultima parte del decennio del 2000 del secondo decennio del 2000 la campania per esempio a metà degli italiani dei dei propri residenti all'estero un'altra cosa e poi cominceremo con alcune domande i dirigenti della regione siciliana sono 100 1692 e 28 mila i dipendenti riferibili all'ente regionale in i dipendenti il numero dei dipendenti in lombardia cinque volte tanto cioè i dipendenti della sicilia sono cinque volte quelli della lombardia io credo che questi sono i numeri veramente di una grandissima difficoltà siciliana entreremo anche su tutti questi dossier e che cosa avete nelle mani tutti voi però io prima vorrei fare vorrei che voi stabiliste un rapporto con i nostri spettatori chiederò a tutti voi cominciando dal movimento più piccolo quindi da roberto la rosa ciascuno di presentarsi roberto la rosa come si descrive a una audience nazionale siciliani libei è nato meno di due anni fa ma nasce da un'aspirazione nobile del popolo siciliano un'aspirazione millenaria quello all'autogoverno a reggersi economicamente e politicamente sulle proprie gambe noi siamo scesi in campo in questa competizione elettorale per far sì che in sicilia Roberto la rosa io voglio una descrizione molto breve di se stessa di se stesso non voglio una descrizione del suo movimento solitamente non parlo mai di me stesso allora io ho sposato questa causa quando avevo 22 anni quella dell'indipendenza della sicilia oggi ne ho 61 è stata una folgorazione oggi posso dire che è stata una vera e propria vocazione ho completamente dedicato la mia interesistenza alla battaglia per la indipendenza economica della sicilia e la libertà politica della stessa non ho mai fatto il politico sono stato sempre fuori dai palazzi del potere e oggi vorrei che in sicilia ci fosse uno stato di legalità costituzionale che in atto manca perché il statuto speciale di autonomia è stato calpestato in questa in questa corsa elettorale qual è il suo punto debole qual è il suo tallone d'achille breve risposta brevissima perché dobbiamo far parlare tutti la mancata la mancata conoscenza del nostro movimento politico da parte del popolo siciliano va bene adesso beh se non lo conosce il popolo siciliano ecco perché ci appelliamo soprattutto il nostro appello è soprattutto a mass media se noi entriamo nella cassa di tutti i siciliani il 5 novembre avremo una bella sorpresa va bene nello musumeci lei rappresenta il centrodestra una coalizione unitaria che significa molto per il centrodestra nazionale lei è come si dice una vecchia volpe della politica no cioè calca la politica da moltissimo tempo con che parole si descriverebbe oggi a un audience nazionale che deve pensare a lei come il prossimo governatore sì direttore grazie intanto buonasera a tutti proprio la volpe è quella che meno mi somiglia perché è un animale furbo se io fossi stato furbo nella vita forse avrei avuto un'altra diversa condizione io sono un dipendente di un istituto di credito ho fatto politica da quando ero ragazzo la politica intesa come impegno soprattutto amministrativo ho avuto la fortuna di governare la provincia di Catania la mia città per dieci anni di seguito il primo presidente eletto direttamente dal popolo devo dire anche con un largo consenso di elettori della sinistra ho governato gestendo 500 milioni di euro circa posso ancora dire di essere una persona onesta perché non ho mai ricevuto un avviso di garanzia mai una vicenda giudiziaria la mia provincia oggi viene chiamata dai giornalisti come la primavera di Catania perché in quegli anni siamo riusciti a farla diventare la più gradita fra i sondaggi che ogni anno come lei sa vengono pubblicati sono alla guida di un movimento cinico che chiamiamo diventerà bellissima il suo punto debole in questa campagna? allora ma devo dire sempre il punto debole che mi accompagna è una certa intransigenza una rigidità caratteriale i miei amici me la contestano spesso ma se non fosse stato così se non fosse stato così forse non avrei non sarei non potrei dire di essere una persona assolutamente per bene allora cancelleri sono siciliano ho 42 anni e la persona che amo si chiama Elena e le do due caratteristiche da 5 anni sono deputato della regione siciliana e ho accumulato una grande esperienza sul bilancio della regione perché sono membro della commissione bilancio conosco tutto quello che hanno fatto i partiti nei 20 anni e come hanno umiliato la nostra terra e conosco anche le soluzioni ma avendola girata anche questa terra ho parlato con tantissimi siciliani imprenditori, agricoltori e tutti quelli che in qualche modo fanno impresa e insieme a loro ho raccolto le soluzioni per risolvere problemi alla nostra terra il suo punto debole? non mi dica una sua virtù come punto debole perché non funziona così dica un vero punto debole il luogo comune falso che noi non siamo capaci di governare in realtà dalle statistiche regionali noi siamo il gruppo parlamentare quello del Movimento 5 Stelle che è non solo il più produttivo ma ha anche gestito parecchi milioni di euro frutto del taglio dei nostri stipendi per dare delle risposte concrete ai cittadini siciliani vabbè questo non è un punto debole è un punto forte Cancelleri e abbiamo fatto l'altra sera quando è crollato il ponte sulla Palermo va bene grazie mille Fava è uno scrittore mi sorprenda 60 anni questo bisogna dirlo brevemente scrivo, sono giornalista vicepresidente della Commissione Antimafia scrive che mi piace molto, la considero non solo una passione ma il mio vero mestiere mi sento abbastanza libero forse piuttosto irrequieto mi è piaciuto chiamare questa nostra aggregazione con tutte le forze della sinistra a cento passi perché mi sembra non soltanto il titolo di un film a cui sono molto legato però a vie ragioni ma anche una bella storia di disobbedienza e forse bisogna anche riscoprire il rischio e il gusto della disobbedienza soprattutto in Sicilia che non sorrido abbastanza ma questa è una cosa che dice Mussumeci dice Mussumeci generalmente no, dice Cancelleri di Mussumeci che non sorride abbastanza non lo incontra mai perché non vede se sorride o meno questo me lo dico da 25 anni io cerco di ovviare di essere un po' meno incupito, affatto per maloso però il tema del sorriso è una politica che spesso anche bisogna essere accompagnata con qualche sguardo un po' più generoso e infine, Fabrizio Micari? Fabrizio Micari, sì 54 anni, sono ingegnere io credo di rappresentare l'elemento di novità in questa competizione elettorale nel senso che io non avevo fatto politica fino a questo momento io sono il rettore dell'Università di Palermo quindi nei 29 anni precedenti della mia vita ho lavorato all'università ho sempre vissuto per l'università e per i giovani e per questo rappresento appunto la vera novità credo di poter mettere in campo una notevole competenza oltre che pragmatismo, concretezza delle doti Allora, adesso invece io vi dico che magari voi siete il punto debole possiamo dire che Fava è il punto debole di Micari e Micari è il punto debole di Fava considerando che siete la rappresentazione materiale di una differenza a sinistra che rischia di far perdere la sinistra? Io credo che il mio punto debole almeno in partenza, almeno due mesi fa era la limitata notorietà evidentemente essendo stato sempre al di fuori rispetto al mondo politico l'essere spaccati a sinistra può essere un regalo per la destra è soltanto questo Fava? Sono contento di non essere il suo punto debole perché fino ad adesso ho sentito soltanto questo tutti i ministri romani arrivano in Sicilia e dicono non votate Claudio Fava che come punto all'ordine del giorno per un programma di governo mi sembra un po' poco però come dire, chapeau molti nemici, molto onore si diceva un tempo penso che non ci sia una divisione a sinistra nel senso che la nostra lista la nostra proposta raccoglie senza punteggiature senza virgola senza aggettivi tutte le forze della sinistra e la coalizione che sostiene il rettore Micari vedo anche altre cose vedo una vecchia volpe la polione cardinale che ha già spiegato e io forse avrò avrò difficoltà a far votare Micari forse vorrò far votare Musumeci Allora, come avete visto fin qua intanto abbiamo fatto un piccolo lavoro intorno a voi perché vogliamo, come dire, presentarvi su una abbiamo, come dire, una cosa un compito non facile che è quello di far uscire delle regionali e farle diventare, raccontarle nazionalmente abbiamo chiesto a due giornalisti sicilianissimi e bravissimi Marcello Sorgi ex direttore della stampa del Tg1 e oggi colminist di punta della politica e Francesco Merlo anche lui, diciamo, grande editorialista di Repubblica e narratore di fare loro i vostri ritratti però prima, mentre preparano questa cosa volevo far notare ai nostri spettatori che già qui si è profilato come dire, si sono profilati due sottogruppi in questa campagna elettorale una è ovviamente quella della sinistra che è una delle questioni nazionali che si riflette in Sicilia e dall'altra parte il sottogruppo che direi, metto un attimo via l'indipendentista perché c'è un tema anche lì su cui torneremo tra i due frontrunner che sono Musumeci e Cancelleri i quali naturalmente stanno come dire stanno facendo un corpo a corpo in queste ore quindi dovete capire che già in queste 4-5 persone già abbiamo identificato una dinamica diversa allora vediamo cosa hanno detto invece di voi questi due editorialisti e giornalisti il candidato del centro-destra che è il super favorito che è Nello Musumeci che è il fascista per bene è antimafioso è anticorruzione a cui sono imposte dentro la lista una serie di ceffi che controllano il territorio e lo presidiano più o meno come i barboni presidiano l'ingresso dei supermercati o delle chiese in Sicilia diciamo la campagna elettorale è cominciata almeno un anno e mezzo fa diciamo da quando è esploso il caso Crocetta da allora ed è minimo un anno e mezzo le statistiche dicono che ogni settimana in Sicilia 184 ragazzi compiono 18 anni e 184 anziani muoiono allora se tu fai un calcolo approssimativo vuol dire che ci sono 10.000 voti nuovi malcontati da 10 a 15.000 voti nuovi di 18 anni che difficilmente saranno attratti dai candidati storici questo dato qui è interessante è molto interessante e secondo te favorirebbe cancelleri per esempio per il candidato più nuovo l'occhio secondo me favorisce i 5 stelle per la prima volta la Sicilia orientale è più importante della Sicilia occidentale perché è lì che Musumeci prende voti a sinistra ed è lì che Claudio Fava sfida in maniera seria Micari in siciliano dicono cui Micari è dove Micari ovviamente è un'assonanza di un altro termine tipico siciliano perché non c'è dubbio che Micari che è un fiordi professionista un rettore giovane un candidato civico nel vero senso della parola nel senso che viene dalla società civile è scelto dall'Europa Orlando però insomma come conoscenza ha questo handicap che all'infuori di Palermo ha dovuto utilizzare la campagna elettorale per farsi conoscere in Sicilia orientale Claudio Fava è più forte che in Sicilia occidentale è il figlio di un giornalista ammazzato dalla mafia e ha dedicato la sua vita a lottare contro il mondo da cui provenivano gli assassini del padre l'aspetto laboratorio c'è anche nella decisione di Pietro Grasso dice ma che c'entra? c'entra perché Grasso è il Fava a livello nazionale ha lo stesso profilo alto anche una stessa legnosità e quindi la prova se va bene Fava in Sicilia andrà bene Grasso in Italia l'indipendentista in Sicilia c'è sempre c'è sempre qualcuno che vuole diventare una stella della bandiera americana oppure entrare nell'Unione Sovietica o la Trinacria c'è sempre però poi in realtà c'è una saggezza di fondo che in queste cose ci ha fermato ci ferma perché sappiamo bene che semmai sono gli altri che a volte pensano che sarebbe bene staccarsi da noi Bene io spero che vi siete ritrovati in un po' comunque sono altri sguardi su di voi questa piccola introduzione poi se volete potete rispondere a quello che è stato detto di voi porta inevitabilmente in mano quello sul tavolo quello che sono i due grandi temi che noi ci ritroveremo qua un po' la storia della mafia perché Sicilia e mafia non possono essere disgiunte soprattutto se tu guardi dall'Italia alla Sicilia la prima cosa che ti chiedi è questa la seconda cosa è la questione dell'autonomia che secondo me è molto importante e viene messa in discussione allora per quanto riguarda la mafia e l'antimafia noi abbiamo una definizione di tutte persone per bene ma soprattutto questo incrocio per cui l'onorevole Musumeci è un membro rispettatissimo dell'antimafia la grande tradizione diciamo della destra statalista di cui partecipava di cui era parte anche Paolo Borsellino e dall'altra parte abbiamo un uomo della sinistra dell'antimafia che è Fava comincio con voi Fava e poi vorrei sentire Musumeci la situazione della mafia è ancora la stessa è cambiata una delle opinioni che va in questo periodo è che i mafiosi in fondo sono andati al nord la mafia ha avuto molti colpi cioè in fondo la mafia non è più un grande problema i mafiosi sono andati anche al nord ma sono rimasti in Sicilia è difficile pensare a processi di spesa pubblica che non cerchino di essere intercettati dalle cosche mafiose non c'è un subappalto di movimento terre in un cantiere dile che in Sicilia sfuga alle mire di una azienda collegata prestanome della mafia ed è un fatto come un fatto che lo scioglimento di alcuni comuni racconta il modo in cui i mafiosi non puntano più al sindaco o all'assessore basta avere un impiegato di riferimento un segretario comunale intercettare le gare d'appalto ed essere presenti nella spesa pubblica e vogliono essere presenti anche nei luoghi nelle funzioni nelle scelte della politica e in questo noi commettiamo un errore siamo convinti che il certificato penale sia come dire la garanzia di limpidezza come un battesimo per poter partecipare alla politica e devo dire che in questi anni i lavori in commissione antimafia abbiamo scoperto che dietro certificati penali immacolati c'erano come diceva Francesco Mello ceffi cioè persone limpide dal punto di vista della propria caratura giudiziaria ma pesantissime dal punto di vista dei linguaggi politici dei linguaggi mafiosi delle parentele delle affinità di ciò che portano dentro le liste che il problema che è stato posto a Nello Musumeci il problema della mafia in Sicilia è una evoluzione ma non un cambio di peso in qualche modo noi a Catania abbiamo un candidato che si chiama Riccardo Pellegrino che è intercettato è stato sentito dire come rimpiango il tempo in cui gli idoli mafiosi Santa Paola i Mazzei i Cappello non governavano questa città se ci fossero loro tutto questo manicomio non ci sarebbe questa è un'intercettazione che è stata messa a disposizione di tutti noi e allora accettare che un signore è come questo col certificato penale pulito ma con questa idea della funzione della politica e quella di rimpiange gli idoli mafiosi oggi concorre per diventare un deputato regionale per rappresentare la comunità siciliana che ha avuto un presidente ammazzato dalla mafia e due presidenti costretti alle dimissioni perché considerati collusi con la mafia mi sembra una responsabilità grave sulla quale è la responsabilità della politica non dell'autorità giudiziaria o della commissione antimafia ecco qui si apre però una qui si apre diciamo una contraddizione che porta direttamente all'onorevole Musumeci lei Musumeci come dicevamo prima è una persona stimatissima dall'antimafia ha sempre fatto un grandissimo lavoro eppure diciamo i nomi la sua lista che lei peraltro riconosce solo in parte è la lista che ha un numero di impresentabili si chiama diciamo che lei disconosce lei stesso come come pone la coerenza della sua azione e del suo futuro rispetto a questa lista e a questo modo di lavorare beh intanto mi consente di dirle che sono contento che si stia parlando finalmente di liste pulite per la regione si è votato per 16 volte in questi 70 anni e il tema è stato sempre taciuto o quasi perché nessuno aveva interesse a porre il problema temendo di perdere qualche voto di preferenza quest'anno due mesi tre mesi fa il tema è stato posto al centro dell'attenzione e lo ha fatto un candidato alla presidenza della regione infischiandosi dell'ipotesi di poter perdere 10, 20 o 30 mila voti perché io sono convinto che soltanto liste di candidati al di sopra di ogni sospetto possano riavvicinare i cittadini alla politica detto questo quindi mi consenta il compiacimento per un tema che è diventato di grande attualità voglio dirle che ha ragione l'onorevole Fava è un problema politico ma è anche un problema giuridico perché gli impresentabili che sono in tutte le liste anche quest'anno come è successo per 70 anni per tutte le liste intende anche le liste sento un'affermazione grave questa io ho parlato di Riccardo Pellegrino ho fatto un nome un cognome ho parlato di una persona senza macchie sul casellario giudiziario dicendo che alla fine si può anche porre un'opzione o candidate lui o candidate me io questo avrei fatto Nello o candidate lui in Forza Italia o candidate me non si sente cancelleri a proposito continui perché lei non ha finito il discorso non ha risposto alla mia domanda che come si concilia la sua diciamo la sua storia personale le sue convinzioni con questa lista stavo per rispondere si concilia benissimo perché intanto ho denunciato una realtà che è in realtà in Sicilia da 70 anni e credo che si concili le dico di più il problema è di carattere etico perché l'onorevole Fava sa che Pellegrino per esempio è eticamente candidabile per le leggi dello Stato perché proprio il protocollo della commissione nazionale antimafia consentirebbe che il caso di Pellegrino possa essere benissimo possa rientrare fra le persone che si candidano ma io Pellegrino e tutti gli altri impresentabili non li vorrei né quest'anno né per il futuro ma ci sono perché la responsabilità ci si dovrebbero togliere i voti se ci sovrapponiamo non ci sovrapponiamo qui sono io che non faccio sovrapporre tranquillo io ho grande rispetto per chi ci segue quindi vorrei farmi capire sì 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 certo occorre occorre modificare la legge sulla candidabilità perché non è detto che chi non ha problemi di rilevanza penale sia una persona per bene può benissimo essere un frequentatore di ambienti mafiosi può essere un familiare di un mafioso ed io questo l'ho denunciato da presidente della commissione regionale antimafia eppure viene candidato ugualmente e allora modifichiamo la normativa e facciamo in modo che si può che possa non candidarsi non solo chi ha problemi con la legge e peraltro ci sono già le leggi dello stato che lo prevedono va bene ma anche chi eticamente non è e non può essere candidabile fino a quando la legge consente al pellegrino di turno di potersi candidare non glielo dovevi consentire tu il candidato presidente non deve consentire non la legge il candidato presidente deve dire non candidato è la mia lista altrimenti me ne vado io questo è un senso di responsabilità etica che deve assumere su di sé chi si candida la presidenza vorrei far parlare di cancelleri e micari cancelleri e micari e ritorniamo dentro questa storia cancelleri vorrei aspetti ci torniamo cancelleri in questa vicenda in questa vicenda un sume ci fa come Ponzio Pilato se ne lava le mani ovviamente è sotto gli occhi di tutti che abbia candidato nelle proprie liste che lo sostengono condannati e arrestati e che purtroppo si porta anche dietro gli uomini di Cuffaro che è stato condannato in via definitiva a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e che si porta dietro anche gli uomini di Lombardo di Genovese e tutti gli altri impresentabili che affollano le sue liste anche dentro la sua di lista quella di Diventerà Bellissima nel quale c'è un condannato a quattro anni qui il problema è uno noi come candidati alla presidenza della regione come presidenti come capi della coalizione dovevamo pretendere e dare a tutti i cittadini siciliani la possibilità di poter votare in maniera libera e in maniera serena e invece anche questa volta purtroppo qualcuno non ha rispettato quella che era un patto etico da sottoscrivere con tutto il popolo siciliano la nostra lista è una lista pulita e sono affollate le liste del centro-destra di persone impresentabili Cancelleri lei personalmente prova stima per Musumeci perché Musumeci viene raccontato anche come una persona che potrebbe attrarre parte dei voti del centro-sinistra della sinistra e parte persino dei voti dell'M5S io ho sempre detto che tutti i miei avversari in questa sfida per la presidenza della regione sono delle persone per bene ma chi pratica gli impresentabili diventa impresentabile Nello Musumeci ha perso la credibilità ha infangato la sua stessa storia e questo mi dispiace perché io l'ho sempre rispettato da quel punto di vista però chi si mette dentro gli uomini di Cuffaro oggi forse non merita neanche più di essere guardato con stima a me dispiace perché davvero questa persona è stato anche un punto di riferimento in alcuni momenti della mia vita politica ma oggi io lo guardo con grande perplessità e mi preoccupa che sia sceso a un compromesso così grande a tal punto da svendere davvero la propria credibilità va bene torniamo poi appunto al diritto di replica all'onorevole Musumeci vorrei però sentire Fabrizio Micari ma guardi io non posso che provare davvero dispiacere perché io credo che l'onorevole Musumeci che è una persona assolutamente rispettabile nel suo tentativo di candidarsi non so se è la terza o la quarta volta ha accolto ha accettato o ha dovuto accettare di avere delle liste che sono state procurate poi sono un po' tutte perché oggi sentivo che c'era Salvini che diceva che le loro liste sono pulite peccato che non è vero perché anche nelle liste di Salvini ci sono degli impresentabili per non parlare della lista di Forza Italia dove ci sono persone con 22 capi di imputazione ci sono persone arrestate ci sono persone condannate c'è un notaio al quale è stato tolso il sigillo perché faceva atti con la mafia ci sono veramente delle situazioni che veramente lasciano molto molto perplessi anche io ritengo che non basti dire ma quindi possiamo dire che siamo ancora fermi a una questione di a una questione di legalità in Sicilia no forse è l'interpretazione della parola legalità perché la legalità è giusto dire la legalità è il primo il primo scoglio su cui sta in Sicilia in questa sta sbattendo questa campagna elettorale una delle cose che noi diciamo è che noi presenziamo persone per bene e che candidiamo liste di persone per bene non dovrebbe essere necessario dovrebbe essere scontato dovrebbe essere la base essere per bene la base e poi c'è tutto il resto la competenza l'esperienza tutto quello che si vuole invece purtroppo mi accorgo che troppe volte noi diciamo sono persone per bene non dovrebbe esserci bisogno di dirlo abbiamo commesso un errore abbiamo delegato la legalità all'attività giudiziaria all'operato dei tribunali abbiamo delegato come dire la taratura morale della politica dei partiti delle liste dei candidati a ciò che ci spiegavano i tribunali se i tribunali assolvono o non processano quel candidato va comunque bene e la politica si è tolta dalle mani ogni responsabilità andrebbe riassunta e il primo modo per riassumere questa politica è un'elezione strategica al punto di vista della tenuta morale come quella in Sicilia vuol dire che tu devi pretendere non che ci siano come dire candidati potabili dal punto di vista giudiziario ma che ciascuno di loro possa rappresentare 5 milioni di siciliani dal punto di vista della cultura democratica e antimafiosa che esprime perché altrimenti perché non si parla più di mafia in questa campagna elettorale questa è una domanda che io non se ne parla forse perché parlare di mafia non porta abbastanza voti forse perché parlare di mafia vuol dire anche mettere le mani in alcune questioni di cui non si vuole parlare ne stiamo parlando ne stiamo parlando e sono stato io il primo a porre il problema delle liste pulite ma non l'hai affrontata un momento un momento non l'hai affrontata il problema un momento non l'hai affrontata non l'hai affrontata maggiore contraddizione perché lei capisce onorevole Mosconi lei è rispettatissimo come persone anche come militante dell'antimafia ma ha delle persone impresentabili direttore cosa è stato? è un obbligo di partito? mi consente? io ho già vinto direttore io moralmente ho vinto perché per la prima volta un candidato presidente non viene attaccato che bello di solito si dice ma nessuno di noi ha sistemato i figli è un corrotto lei si rende conto io non vengo attaccato viene attaccato un contorno perché non trovano nulla sul mio conto ho già moralmente vinto l'unico impresentabile è l'onorevole Cancelleri e non lo dico io lo dice la magistratura italiana è impresentabile con una sentenza del tribunale di Palermo quinta sezione dell'11 settembre 2019 faccia finire Cancelleri perché è un abusivo perché ha commesso un falso nel preparare le norme per le primarie ecco chi sono gli impresentabili dopo di che gli amici dei mafiosi non vanno votati i candidati discussi non vanno votati la garanzia sono io con la mia storia con il mio curriculum che nessuno dei presidenti non ci deve attaccare perché è la garanzia per i siciliani parliamo di Sicilia parliamo un attimo con Cancelleri la replica vorrei sentire l'opinione anche di Roberto Larosa e poi vorrei capire come ci si muove da qui che futuro pensiamo per la Sicilia però il problema è che il futuro della Sicilia ecco la premessa naturalmente Micari che è un professore mi ha rimproverato dice muoviamoci da qui e parliamo della Sicilia però la verità cos'è che il futuro della Sicilia che è una società in una gravissima crisi economica è molto intrecciata dalla capacità della sua classe politica di essere integerrima perché come dice come ha detto anche recentemente uno studio presentato poi da Cantone siccome la maggior parte dei reati in Sicilia sono reati di abuso di denaro pubblico cioè la malavita naturalmente a facile gioco soprattutto al controllo del lavoro pubblico spiego perché insisto su questa cosa allora cancelleri dimmi cosa rispondi mi dica cosa risponde all'onorevole Musumeci sul fatto che l'impresentabile è lei che non sa purtroppo neanche leggere un'ordinanza di un tribunale che non può stabilire se è come fare le nostre liste lo scrive il giudice in calcio ed è una cosa di cui noi abbiamo avuto molto rispetto la verità è che per togliersi delle macchie da dosso incredibili perché chi vota Musumeci vota Gianfranco Miccichè vota i Genovesi i Lombardo i Cuffaro e tutti gli impresentabili ovviamente cerca di attacchere noi in una maniera incredibile e questo il fatto e neanche Berlusconi se ne è lavato le mani da Musumeci tant'è che scende in Sicilia non va a Catania ma va direttamente a Palermo forse perché ancora non è neanche sicuro e nel video non lo cita neanche non cita neanche il suo candidato alla presidenza Di Battista diceva con una battuta che probabilmente praticherà il voto disgiunto cioè a presidente voterà per me la rossa lei ha una volevo avere la sua opinione su questo la rossa allora la questione della legalità in Italia non c'è mai stata e non c'è mai stata dall'unità d'Italia ad oggi perché se guardiamo all'operato degli uomini di Cosa Nostra purtroppo la peggiore specie dei siciliani sono 5.000 persone da Vittorio Emanuele II a Sergio Mattarella sono passati 157 anni e lo Stato italiano è passato dalla monarchia al fascismo fino all'età repubblicana non è riuscita a sconfiggere definitivamente la mafia quando sappiamo che il terrorismo era contro lo Stato in 20 anni è stato debellato allora lo Stato italiano deve risponderci perché in 157 anni non riesce a distruggere questo fenomeno di cui la Sicilia è soltanto vittima è con essere il popolo siciliano e il secondo problema quando parliamo di questione di legalità dobbiamo parlare della questione di legalità più importante la violazione della legalità costituzionale la violazione da 70 anni dello Statuto Speciale di Autonomia che è legge costituzionale che ha avuto attuazione in Trentino in Friuli in Val d'Aosta e che ha costituito progresso economico per quei popoli la rosa soltanto che in Sicilia la rosa la fermo un attimo perché sulla questione dello Statuto dell'Autonomia mi pare che in questa campagna si stanno facendo come dire dei passi avanti o perlomeno dopo il referendum di Milano e del Veneto mi sembra che si stia ponendo differentemente un po' anche la cosa anche la questione dell'autonomia voglio soltanto chiudere deve recuperare un paio di minuti lei Micari però voglio voglio chiedere una sola cosa all'onorevole Musumeci lei non mi ha spiegato la contraddizione tra essere lei com'è e aver accettato liste con persone che si considerano inaccettabili poi si vede se è sul profilo morale o solo sul profilo morale o anche sul profilo legale eccetera diciamo che tutti leggiamo questo come il fatto che lei ha dovuto fare dei compromessi rispetto alla coalizione nazionale mi può dire un sì o un no giusto per capire perché la sua statura personale non è messa in discussione ma l'operazione politica è rilevante sì io la ringrazio di aver riconosciuto di essere io persona per bene e mi creda per un politico di lungo corso è già un grande risultato io in nome dei candidati delle liste a me collegate cinque liste trecento candidati li ho appresi dal giornale esattamente come ogni altro cittadino siciliano ecco questa è la è la è la amara realtà di una legge che non consente che io vorrei poter parlare capisco cancelleri capisco che cancelleri capisco che cancelleri perde le staffe è un po' lo stile degli M5S li deve un po' perdonare su loro sono molto ma dottoressa annunziata no no la presidenza per il mondo cittadino della regione in cui si collega cancelleri non puoi più di averlo conosciuto dai giornali su via ascolti cancelleri ascolti scusi ogni tanto cado nel tu perché è più giovane di me mentre invece l'onorevole ha la stessa età mia è interessante capire come l'onorevole Musumeci perché è un racconto di un sistema politico cioè lei dice che alla fine lei si è candidato e ha saputo dai giornali cioè come me come Fava come gli altri la lista dei candidati e come mai Presidente Direttore scusi guardi la legge siciliana ma anche quella nazionale in generale sulle candidature prevede che siano i partiti a elaborare le liste dei candidati attraverso una serie di requisiti di selezione dice la Presidente Bindi questa legge va cambiata e va cambiata perché se lei chiede un certificato di carichi pendenti ai candidati come hanno fatto gli elaboratori della mia lista della lista del mio movimento per esempio il candidato di cui si è discusso ecco nullo e nessuna carica pendente questo significa che non basta l'ordinamento giudiziario per poter capire se un candidato è candidabile o no se rientra nei requisiti di legge se per esempio si modificasse la legge le faccio una proposta perché potrei rispondere alle politiche se non lo fanno se si desse alle liste se si essero 60 giorni per poter preparare le liste ogni organizzazione politica potrebbe chiedere non a 87 tribunali come avviene ora ma a un sistema centralizzato i certificati dei carichi pendenti e capire se uno intanto ha avuto problemi o no con la giustizia poi c'è un problema che non viene regolamentato perché persino il protocollo della commissione nazionale antimafia ha detto che non esiste alcun potere sanzionatorio allora mi dica solo una cosa se lei viene eletto se lei viene eletto comunque il governo lo dovrà fare lei garantisce che è convinto che non ci metterà nessun impresentabile nel governo siciliano almeno questo direttore questo dipende da lei questo dipenderà da lei questa è la mia ultima avventura politica ed elettorale lo faccio per un atto d'amore nei confronti della mia terra non debbo fare altre candidature la squadra la formo io e non tradirei mai la fiducia dei siciliani mai la squadra sarà formata da persone al di sopra di ogni sospetto ma le dico di più i deputati saranno scelti dai siciliani perché in Sicilia le liste non sono bloccate e col proporzionale e con la preferenza la selezione che non hanno saputo fare i partiti la faranno gli elettori la faranno i cittadini e sanno come siete convinti e chiudiamo questa pagina 18 nomi ce li ha già Miciche che ha scelto gli assessori il programma te l'hanno scritto i condannati e gli arrestati alla tua lista dispiace però e ogni volta succede sempre questo è un disperato ma non è un disperato cancellere ma davvero l'odio nel cuore è un disperato la parola la parola a Miciche io vorrei fare un richiamo comunque noi abbiamo cancellere cancellere ha la doppia direttore chiedo scusa essendo io stato se mi consente un linguaggio evangelico essendo io stato definito Ponzio Pilato posso dire che cancellere mi somiglia molto a Nicodemo che di giorno stava con Cristo e di notte con i farisei è l'uomo della doppiezza perché lui è giustizialista con gli avversari è garantista con i suoi dimenticato che in Sicilia ha quattro deputati indagati e rinviati a giudizio c'è acqua anche il sindaco indagato il sindaco di Roma il sindaco di Borgia il moralista adesso adesso io credo voglio finire con voi due vorrei finire vorrei finire con voi due perché abbiamo acquisito per lo meno quelle che sono gli impegni le spiegazioni di musumeci e gli impegni di musumeci per il futuro governo e abbiamo anche acquisito i dubbi di cancelleri su questo che non sono solo di cancelleri andiamo un attimo avanti su questa cosa io credo che questo dibattito lei mi diceva i siciliani sono interessati a questo ma i siciliani sono interessati a questo o siamo solo noi il vero problema dei siciliani è che io sono andato veramente tanto in giro e ho parlato veramente con una quantità infinita di persone e di categoria i siciliani hanno problemi importanti lei citava alcuni dati c'è per esempio una disoccupazione giovanile al 58% c'è una migrazione intellettuale drammatica le famiglie siciliane che sono dove c'è una percentuale di famiglia che sono sulla soglia di povertà o che l'hanno superata che è altissima si interrogano su altre cose vogliono sapere ma che cosa pensiamo di fare per il futuro di questa terra come pensiamo di costruire lavoro come pensiamo lei è sicuro che in Sicilia questo dibattito non interessa io penso ci sia un dibattito un po' più a monte che riguarda i siciliani riguarda per esempio quel 60% che non vuole andare a votare perché è convinto che la politica o serve a costruire un baratto restituire un diritto sotto forma di bisogno oppure non serve noi dobbiamo restituire il senso di responsabilità ai siciliani ci sono dei dati che collegano la crisi di bilancio con l'astenzionismo in Sicilia è molto interessante insomma meno soldi ci sono da distribuire più cresce l'astenzionismo non vorrei essere meccanica in questa spiegazione così come la ricerca della politica legata a un rapporto di appartenenza a chi appartengo chi mi garantirà chi mi darà qualcosa in cambio del mio voto o tu smonti questo meccanismo a monte oppure parlare delle magnifiche sorti e progressive della Sicilia se prima non pretendi dai siciliani la disponibilità a riscattarsi loro stessi che è la ragione per cui quando si discute in modo un po' come dire da accattoni sul tema del voto utile andando a rapinare a casa degli altri io continuo a pensare che l'unico voto realmente utile per i siciliani è il voto libero perché restituisce un sentimento di responsabilità che i siciliani hanno smarrito hanno svenduto in questi anni io vi ripropongo su questo anche per calmarci un attimo in questo studio e anche spero lì in Sicilia mi sembra che ci sia molto fair play in verità un altro pezzo proprio sulla Sicilia sul gioco in Sicilia il futuro della Sicilia di Sorgi e Merlo la Sicilia è giustamente considerata un laboratorio però per laboratorio che cosa si intende e i laboratori sono quei posti come l'alcova segreta in cui si azzardano delle posizioni che nel letto venuziale ti sono proibite la classe politica è quella diciamo da 25 anni è la classe politica della seconda repubblica in questa classe politica c'è dentro di tutto e soprattutto c'è un pattuglione centrale che oscilla fra la sinistra e la destra e si schiera di volta in volta con chi sarà il vincitore cioè intuisce in questo ha un intuito particolare si schiera con chi sarà il vincitore sono delle elezioni destinate a cambiare ma non la Sicilia perché la Sicilia per suo statuto ontologico non cambia mai lo ha stabilito Tommasi Lampedusa il Gattopar e quindi non cambieranno la Sicilia ma cambieranno l'Italia nella vittoria di Crocetta cinque anni fa c'era un forte sentimento di antipolitica aveva tutte le premesse per riuscire bene cioè per portare un vento di cambiamento anche lì non ha rivelato grandi capacità probabilmente ha incontrato degli ostacoli spaventosi perché poi bisogna pensare che la macchina della regione è una macchina essenzialmente palermitana quindi mal sopporta amministratori che vengono da fuori Palermo a un amico non si augura di diventare presidente della regione lo si augura in genere a un nemico perché comunque la prima cosa che lui dovrà affrontare è il fallimento perché lì c'è un bilancio fallimentare già la Corte dei Conti lo bocciò non c'è ragione che non lo boccia ancora c'è un contenzioso di 8 miliardi con lo Stato lui ovviamente ci ha messo il suo ci ha messo tutte le sue vicende personali ci ha messo il suo comportamento diciamo non sempre istituzionale probabilmente lo ha fatto a ragionveduta cioè pensava che in questo modo avrebbe conquistato fette di consenso in Sicilia diverse da quelle regione perché poi uno pensa sempre che questa è la terra il gatto pardo gli aristocratici dei principi le signore che vanno ai parti con il pappagallo sul braccio però insomma nel frattempo è passato tanto tempo non è che questi palazzi qui sono meravigliosi ma sono ormai vuoti sono tutti a scrivere della Sicilia tutti vanno lì i leader eccetera e poi dopo questo amore per la Sicilia finirà presto sarà abbandonata dal suo degrado al suo sottosviluppo perché come dice il proverbio siciliano spina in cura d'auce è modda come asita una spina nel sedere di un altro è morbida come la setta io non posso riproporre quest'ultima battuta insomma però per Micari guardi io non accetto completamente questo modo di pensare una delle frasi che dico più frequentemente in campagna elettorale è che la frase di Tommasi di Lampedusa occorre che tutto cambi perché tutto rimanga come prima per me è assolutamente inaccettabile io ritengo che invece bisogna cambiare e ritengo soprattutto che oggi ci sono tutte le condizioni per poter cambiare perché se è vero che usciamo da una crisi particolarmente dolorosa è anche vero che abbiamo dei dati economici che sono di ripresa abbiamo dei settori dell'economia che tirano basta pensare al turismo ma anche all'agroalimentare c'è un brand Sicilia che funziona ci sono soprattutto grandi risorse a disposizione perché ci sono le risorse che vengono dalla programmazione europea e ci sono le risorse che ha messo in campo il governo nazionale allora io credo che questo è il momento importante e positivo per provare a fare decollare finalmente questa terra naturalmente ci vuole progettualità e competenza Crocetta che diciamo si è rappresentato anche lui come un grande diciamo riformatore un rammodernatore eppure è stato malamente sconfitto e questo pesa soprattutto sul partito che lei rappresenta che è il PD ogni stagione deve essere giudicata anche in funzione del punto di partenza nel 2012 bisogna riconoscere che i governi che hanno preceduto Crocetta avevano lasciato una situazione di bilancio che era tecnicamente di default c'era una situazione della sanità siciliana con dei buchi di bilancio colossali la Sicilia veniva considerata regione canaglia ora abbiamo delle situazioni che oggettivamente sono diverse il portato dei risultati che si sono ottenuti e che abbiamo una situazione di bilancio sostanzialmente stabile abbiamo grandi risorse che possono essere investite si faceva una stima tra i 12 e i 15 miliardi di euro che sono cifre importanti per poter puntare sulle infrastrutture per poter puntare sulla formazione professionale lei ha lanciato il ponte parlo come Sicilia piattaforma logistica nel centro del Mediterraneo per intercettare i grandi commerci che vengono dall'Oriente che adesso entrano nel Mediterraneo attraverso l'ampliamento del canale di Suez e che a questo punto risalgono in Europa proprio da sud non più da Rotterdam come avviene fino a questo momento ma da sud dal mar Mediterraneo gli altri ci stanno pensando la Grecia col Pireo la Francia con Marsiglia io credo che anche la Sicilia aveva definito brillantemente come fa lui questa sua posizione sul ponte sullo stretto un triplo una tripla gaffo è un famoso professore di scienze delle costruzioni quindi ha grossa competenza però sembra anche che si è ritirato da questo punto di vista anche questo abbiamo due sinistri credo che in una terra in cui la percorrenza media velocità media dei treni ancora intorno ai 30 35 km all'ora se non partiamo da questo rischiamo di fare come dire mitologia che serve a un titolo sul giornale a poco più volevo anche dire che il mio giudizio su Crocetta non è soltanto tanto legato alle cose che non ha fatto al fatto lui si sia presentato dietro il paramento di questa parola magnifica ribalda rivoluzione che vuol dire cambia tutto e la sua gestione per citare un altro maestro della scrittura verga è la concessione proprietaria della politica perché quando tu cambi 52 assessori in una legislatura quando tu cacci via un mese prima delle elezioni un tuo assessore perché non si vuole candidare con la tua lista quando nell'ultima riunione di giunta nomini 28 persone alle figure a Picae e alla pubblica amministrazione stai dicendo la politica qui si fa così è roba nostra e questa è una cosa che penalizza il rapporto fra i siciliani e la politica molto più di un bilancio fallimentare Pava però voi siete qua voi due figli qualche modo entrambi dell'esperienza di crocetta ma lui con crocetta io no va bene però entrambi il risultato però di questa cosa è che noi abbiamo cancelleri e musumeci che oggi rappresentano i frontrunner di questa cosa e voi due siete una sinistra divisa che è qui e si farà molto male forse a di là di tutto l'esperienza del PD l'esperienza della sinistra in Sicilia si può considerare oggi fallimentare in senso molto ampio è un'esperienza che hanno deciso di contaminare con l'esperienza di Alfano con l'esperienza di Cardinale quando tu costruisci una cosa io sono all'opposizione rispetto al governo nazionale per cui il problema non mi riguarda non è accettabile che in Sicilia si faccia uno stress test in vista delle elezioni nazionali queste elezioni devono decidere il futuro dei siciliani non sono una prova nazionale non sono una prova nazionale non è questo il nostro problema non è questa la nostra così facendo si favoriscono 5 stelle e la destra che la sinistra in questo momento come si dice spesso in Roma si fa male dividendo assolutamente l'ha sempre fatto la sinistra ma io non so se Alfano non metta la mano la pistola se qualcuno dice tu sei sinistra non so se Cardinale non faccia la stessa cosa stiamo parlando di quel tipo di coalizione ricordo Bertinotti che fa cadere prove va bene o no però di Bertinotti vorrei cominciare da troppo lontano almeno un minuto allora parlerai un minuto e parlerai su una cosa che volevo chiedere ai suoi ai suoi vicini di vicini di schermo mi sembra che la cosa interessante che è venuta fuori di tutte le cose che state dicendo sia come M5S che come destra centrodestra è avere impugnato l'autonomia lo statuto dell'autonomia siciliana sull'onda dei referendum nazionali e avete detto entrambi in diverse maniere ma con un punto di convergenza se questo è il risultato forse bisogna cambiarlo intanto parto da lei la palma la rosa non pensa che per lei sia aperto un terreno nuovo in questo senso? allora io mi rimangono pochi minuti intanto veramente lo spettacolo a cui hanno assistito i siciliani oggi è veramente indegno e indecoroso vedere i partiti italiani che litigano tra di loro io oggi sono venuto soltanto per portare le soluzioni ai problemi economici prima ancora che politici del popolo siciliano e cioè non soltanto la piena attuazione dello statuto speciale di autonomia che è legge costituzionale ma la sua attualizzazione attraverso il disegno di legge che siciliani liberi presenterà al Parlamento siciliano e che va sotto il nome di zona economica speciale cioè la possibilità per la Sicilia di proiettare la soluzione di tutti i suoi problemi vai passando il governo nazionale portandoli direttamente a Bruxelles ma per fare questo bisogna aprire quello che non ha detto nessun partito italiano bisogna aprire un contenzioso col governo italiano perché 10 miliardi di euro non vengano sottratti al popolo siciliano perché ogni anno il prelievo fiscale in Sicilia supera e comprese tutte le entrate arrivano a quasi 18 miliardi di euro non mi commuove questo problema no e va bene i numeri non sono commentabili direttore noi intanto vogliamo aprire un contenzioso e lo vogliamo fare col giudice naturale che è l'altra corte che è stata abolita incostituzionalmente va bene va bene è certo è certo così la finiamo con questa barzelletta di dire che l'Italia campa la Sicilia è esattamente il contrario aprire un contenzioso è una richiesta legittima e costituzionale da parte del popolo siciliano i partiti italiani non l'hanno fatto noi lo chiediamo in maniera democratica pacifica e con senso di giustizia se ci si vuole negare anche questo ognuno che se ne assumi la propria responsabilità d'accordo 10 miliardi di euro sono una cifra enorme che non possono che non possono forse vale la pena di dirlo ma certamente io non ho avuto la possibilità di parlare come gli altri partiti italiani se me ne avesse dato la possibilità io avrei parlato nei minimi dettagli avrei spiegato invece di litigare come indegnamente hanno fatto i partiti italiani anche oggi avrei spiegato al popolo siciliano come noi siamo in grado di risolvere i problemi seguendo una via giuridica una via processuale una via costituzionale le prometto che quando diventa governatore verrà qui e le litigherò un'ora no io non farò mai governatore questa è una promessa di una regione di un popolo no no ma non si arrabbi scusi eh cioè voglio dire ci sono cinque persone ognuno rappresenta perché ho avuto poco tempo direttori tutti abbiamo avuto poco tempo non ho avuto lo stesso tempo dei dati e non mi sembra una cosa giusta e neanche democratica senta non mi faccia rispondere sulla questione della democrazia lei è così piccolo che se io fossi stata non democratica non l'avrei neanche invitata abbiamo invitato tutti i partiti il popolo siciliano è grande io sarò piccolo ma il popolo siciliano è grande e lo dimostrerò il 5 novembre dottoressa io sono piccolo ma il popolo siciliano è grande e lo dimostreremo il 5 novembre con siciliani liberi mi sono messa nei guai cancelleri vorrei il suo punto su tutto quello che abbiamo discusso finora andare avanti e andare avanti dopo e anche l'autonomia lo statuto siciliano è una carta molto importante per la nostra terra fino ad oggi i partiti lo hanno maneggiato per difendere i loro privilegi dalle leggi nazionali noi invece lo vogliamo utilizzare per migliorare le condizioni della nostra terra e risolvere i problemi dei nostri cittadini e della nostra Sicilia partiremo investendo un miliardo di euro in 5 anni attraverso un istituto regionale di investimenti per estirpare la disoccupazione di investire nelle imprese private poi investiremo sulle infrastrutture perché noi abbiamo bisogno di civiltà di modernità abbiamo bisogno di strade autostrade oggi al ponte io le vorrei rispondere andando a visitare le comunità di Troina di Nicosia di Mussomeli e tutte le altre che sono realmente isolate noi non siamo contrari alle grandi opere ma oggi le grandi opere in Sicilia sono le strade delle aree interne che sono davvero distrutte e poi l'ultima cosa la sanità ho incontrato anziani e ho incontrato giovani che mi hanno detto gli anziani che non hanno i soldi per potersi curare perché la regione siciliana non può permettere di dimezzare le liste d'attesa per fare esami e visite e allora gli anziani che dovendosi rivolgere a strutture private a pagamento non si possono permettere di poterle pagare rinunciano a curarsi oppure una giovane donna incinta al quarto mese che mi ha raccontato che chiamando il centralino per fare una prenotazione nell'ospedale pubblico abbia ricevuto una risposta che la lista d'attesa era di un anno io le dico solo una cosa da oggi in poi dal 5 di novembre in poi se i cittadini siciliani decideranno che noi andremo al governo in questa regione le liste d'attesa saranno dimezzate ma se non potremo garantire tempi rapidi ed accettabili allora la regione siciliana pagherà le visite a queste persone siccome diciamo il dibattito che è circolato come sottotesto qui dentro è stato poi il problema delle alleanze come si faranno le alleanze di governo come parte delle proiezioni dei problemi nazionali quelle di sinistra le abbiamo viste la sua risposta credo sia necessaria come pensate di andare e formare il governo senza allearvi o se pensate di allearvi visto che come dire sempre che ci sia stato tra Fava e lei comunque una corrispondenza di amorosi sensi in certi momenti allora come pensate di risolvere questo problema noi del Movimento 5 Stelle non facciamo alleanze né prima né dopo le elezioni al Parlamento siciliano non c'è la fiducia per cui io se dovessi diventare il Presidente della Regione mi presenterò al Parlamento regionale con dieci proposte per risolvere i problemi della Sicilia le persone di buona volontà all'interno di quel Parlamento poi potranno donare il loro voto positivo a quelle proposte non saremo lì a donare o a spartire poltrone di sottogoverno o di governo perché non ci interessa e non è questa la nostra logica quindi una navigazione a vista un po' posso dirti poi su questo no no senza navigazione a vista io già sto dando tutti i nomi degli assessori mi piacerebbe invece sentire visto che Busomecce ha letto dei nomi dei suoi candidati nelle liste che lo sostengono anche quelli degli impresentati arrestati e condannati dai giornali si alleggerà anche dai giornali i nomi della sua squadra di governo dei suoi assessori sulla sull'alleanza 10 secondi anche perché trovo qualche forzatura un po' come dire giornalistica io penso che le alleanze si costruiscono sul merito delle cose l'idea di costruire in termini pregiudiziali a monte da certo politico qualche tavolino che ci veda insieme a me o ad altri candidati mi sembra una cosa che non appartiene alla mia storia vorrei anche aggiungere forse sono l'unico a dirla ma dopo questa discussione sono ancora più convinto forse davvero dobbiamo rivedere questo nostro problema dello statuto forse non abbiamo bisogno di normalità non di eccezionalità forse finalmente tornare adesso a una regione normale recuperare le responsabilità e rinunciare all'alibi dello statuto forse una grande necessaria complicata difficile ma necessaria battaglia da fare Presidente Musumeci volevo farla concludere visto che lei ha sopportato il peso d'urto maggiore essendo anche come dire abbastanza popolare in Sicilia suoi problemi di allargamenti di al di là di quello che abbiamo già discusso sulle liste ha in mente se vince di allargare di allargare ancora ulteriormente la base la base del centro-destra con altre alleanze e altre come dire alleanze nell'assemblea direttore io penso che il centro-destra avrà una maggioranza per governare ho sufficienti elementi per poterlo dire che non posso rivelare perché come lei sa non è possibile in questo periodo parlare dei sondaggi il centro-destra si è ricomposto dopo otto anni ed io sono contento che questo sia avvenuto attorno al mio nome come lei forse saprà il centro-destra in Sicilia ha governato dalla fine della guerra ad oggi per nove anni il centro-sinistra per 45 anni e questo è il resto del periodo per il centrismo questo significa che le responsabilità sono dell'una e dell'altra parte ecco perché a mio avviso per governare bisogna intanto capire che l'autonomia non può essere ancora concepita come un privilegio per mascherare le vergogne delle classi dirigenti l'autonomia deve tornare ad essere quella che era nello spirito dei fondatori una opportunità per risalire la china e purtroppo finora non è stato così ecco perché io non soltanto chiederò la revisione dello statuto per adeguarlo a un mutato contesto costituzionale italiano ed europeo perché lo statuto è del maggio del 46 ma chiederò al Parlamento di confrontarsi con il governo su tre quattro cose essenziali da fare dobbiamo rimettere l'impresa al centro dell'attenzione dobbiamo smetterla di utilizzare il denaro pubblico come ammortizzatore sociale dobbiamo ridare protagonismo alla sicilia nel mediterraneo perché il ruolo della sicilia è nella sua geografia prima ancora che nella gloriosa tradizione della sua storia questi li abbiamo capiti ecco perché se mi consente grazie molte io ringrazio tutti abbiamo capito credo il suo progetto la rosa rimane arrabbiato con me la rosa un pochettino un pochettino troppo ma come un pochettino troppo perché avrei voluto spiegare come il popolo siciliano sarebbe arrivato all'indipendenza economica ma se lei è il punto chiave del nostro programma politico la storia del cambiamento in corso nelle forze politiche principali rispetto sull'autonomia lei non mi ha preso neanche questa palla anche se la ringrazio non resti arrabbiato direttore 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 comunque la ringrazio sono arrabbiato però da persona arrabbiata la posso ringraziare di averci invitato lo stesso grazie mille io sono sempre un po' scortese però perlomeno così funziona il dibattito si va più veloci grazie mille auguri a tutti e lo so grazie invito presentato al prossimo a chi sarà il vincitore auguri grazie grazie grazie